E i due cuori artificiali battono per la prima volta a Bari. Un doppio trapianto di cuore artificiale è stato eseguito infatti in due distinti pazienti ad alto rischio di pericolo di vita dall'equip medica della cardiochirurgia del Policlinico di Bari, diretta dal professor Luigi De Luca Tuputi. Si tratta di una pompa centrifuga a lievitazione magnetica di soli 160 grammi impiantata all'apice del ventricolo sinistro del cuore. Un dispositivo a batteria ricaricabile che rimette il sangue nella orta in modo funzionale al paziente. A ricevere il cuore artificiale sono stati due pazienti di 69 e 55 anni operati nella scorsa settimana ma si è atteso l'esito del decorso post-operatorio per diffondere il risultato dell'impianto. L'ovoglio e cantine aperte a Natale sono i nomi degli eventi organizzati dal Movimento del Turismo del Vino in Puglia in collaborazione con l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. Vediamo. Grande successo per il doppio appuntamento con l'ovoglio extravergine e cantine aperte a Natale. Eventi entrambi organizzati dal Movimento Turismo del Vino Puglia in collaborazione con l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. Dalla mattina fino al pomeriggio è stato possibile visitare i frantoi aperti per consentire a turisti appassionati e curiosi di scoprire le aziende incontrando i produttori, assaggiando e acquistando i vini e gli oli extravergine di produzione direttamente nei luoghi in cui nascono. Abbiamo anche intenzione molto forte anche di dover creare i presupposti per aumentare questo tipo di attività ma soprattutto supportare le nostre aziende per migliorarci dal punto di vista della qualità e anche cercando appunto di finanziare nuovi interventi, inserendo anche, come ben diciamo, anche il comparto innovativo all'interno di questi processi. Da Foggia a Lecce sono state 12 le aziende aperte nel corso della giornata, di cui 5 frantoi. Noi abbiamo il 70% di ospiti stranieri, il 30% di italiani, la maggior parte ben pressati come le sardine, tutti a Pasqua, tutti a Ferragosto e tutti a Capodanno. Negli altri 11 mesi di paradiso abbiamo praticamente solo stranieri che hanno capito tutto della vita e vengono a passare qui le vacanze mangiando i nostri 4 extravergine, le nostre 15 confetture extrabiologiche, i nostri 35 liquori fatti in casa, le nostre 45 erbe selvatiche commestibili. Tante le iniziative messe in atto dagli aziende per stimolare il coinvolgimento dei visitatori, selezioni di prodotti tipici, musica, mostre e attività culturali hanno accompagnato la giornata accanto a classiche visite alle cantine e ai frantoi. Abbiamo fatto un giro del frantoio per fargli vedere un po' quello che è il nostro ciclo di produzione e poi abbiamo offerto loro una degustazione semiprofessionale. In masseria abbiamo allestito una piccola sala degustazione e li aiuteremo ad avvicinarsi al mondo dell'olio. In ciascuna cantina gli enoturisti sono stati accolti in un clima di festa per degustare i vini di produzione e ammirare e acquistare manufatti artigianali. Un'intera giornata dedicata alla cultura dell'extravergine da conoscere, assaggiare, degustare e acquistare per dare sapore alle ricette di tutti i giorni. Successo di palati per l'ultimo nato, l'olio nuovo appena spremuto, associato alle pietanze tipiche. Offerte per esaltare gli abbinamenti gastronomici più appetitosi. Non sono mancati gli itinerari speciali fra frantoi e cantine per gli appassionati di bicicletta, con le associazioni Ruota Libera Bari e Ciclo Amici di Brindisi e Mesagne. Diffondere sul territorio, culture ed esperienze sportive anche attraverso testimonianze dirette. E l'obiettivo questo di incontri di sport, il ciclo di appuntamenti cominciato questo pomeriggio è organizzato dal Conipuglia in collaborazione con l'Unione Veterani dello Sport Bari e Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo. Quest'oggi una serie di premiazioni e l'apertura dell'incontro con l'intitolazione Augostecchi della sezione di Bari dell'AMSES. E siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra gli 8 e 16 gradi, venti moderati e mari poco mossi. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri indirizzi internet, telebari.it, radiobari.net e infochiocciola, segno di zorro.it. Artigianato in fiera a Milano dal 30 novembre all'8 gennaio ha visto protagonista anche la Puglia. Vi lasciamo quest'oggi con l'intervista all'assessore regionale alle risorse agroalimentari Fabrizio Nardoni. Oltre 2.900 espositori con prodotti provenienti da 113 paesi del mondo, distribuiti su un'area di 150.000 metri quadri. AF, l'artigianato in fiera, mostra mercato dedicata all'artigianato di qualità dal 30 novembre all'8 dicembre a Fiera Milano. Ha visto protagonista anche la Puglia, con uno spazio espositivo dedicato a manufatti di pregio ed artistici come la cartapesta leccese, le ceramiche di grottaglie e le produzioni artigianari di Fasano, ma soprattutto con numerose aziende del comparto agroalimentare che, in un'atmosfera di festa e condivisione, hanno raccontato e messo in mostra la creatività dell'enogastronomia pugliese. La cosa che mi entusiasma in maniera particolare è che questi nostri piccoli imprenditori, questi nostri artigiani, raccontano che il loro mercato, il loro fatturato è quasi totalmente un fatturato che interessa i paesi stranieri. L'80% del fatturato rappresenta una vendita in altri paesi, vuol dire che il nostro prodotto, il brand Puglia, continua a funzionare. Per farlo funzionare va internazionalizzato, va promozionato e noi, come sempre, riusciamo, almeno sino ad oggi, riusciamo a aiutare questi nostri produttori a far conoscere questo prodotto. A rappresentare l'identità, la storia e la tradizione enogastronomica del territorio, le prelibatezze tipiche della Puglia, i formaggi, il vino, i prodotti da forno, i dolci, le marmellate e, soprattutto, il sempre ricercato olio extravergine di oliva. Una bella manifestazione che fa tornare a casa contenti, sicuri che la Puglia ha ancora tanto, tanto da raccontare. Il prodotto principe della dieta mediterranea e quindi anche della Puglia è l'olio extravergine di oliva che ha avuto un ottimo apprezzamento. Ha valorato dal fatto che la nostra regione sta puntando molto sulle filiere agroalimentari di qualità. Infatti, come olificio cooperativo di Ostuni, siamo stati la prima azienda a ricevere il marchio prodotti di qualità Puglia, che ci aiuta molto bene a diffondere la cultura del 100% made in Puglia. Un deciso clima di soddisfazione, dunque, tra le 33 aziende partecipanti, soprattutto per il grande successo di pubblico che, nei nove giorni, ha affollato il padiglione 4, ospitante la Puglia. Grande successo di pubblico perché riusciamo a fermare l'attenzione della gente qui nel nostro stand di quelli della bombetta, perché spieghiamo che attraverso una bombetta, un boccone di capocollo di maiale, c'è tutto un territorio. C'è il canestrato pugliese, c'è il pane di Altamura, ci sono delle produzioni incredibili, delle potenzialità che solo questa terra può esprimere.